In occasione della giornata mondiale della donazione del latte materno, l'associazione Piccole Stelle, che da 20 anni collabora con l'ospedale Versilia, ha voluto organizzare un incontro per sensibilizzare le neomamme su questa tematica. Un'opportunità, quella di donare il latte in più, la cui importanza può essere equiparata a quella di una donazione di sangue. Sosteniamo, perché oggi è la giornata mondiale della Banca del Latte, la donazione del latte, che è un oro bianco importantissimo, non meno importante della donazione di sangue, perché sono due atti d'amore che in realtà donano la vita e la possibilità di vivere, secondo me, nella maniera reale dell'amore, ovvero in maniera incondizionata, perché noi non sappiamo mai né a chi va il sangue né a chi va il latte. Quindi questo è all'interno, diciamo, di una donazione importante. La Banca del Latte dell'ospedale Versilia rappresenta un'eccellenza per il territorio comprensoriale che garantisce la fornitura alla rete degli ospedali collegati. Il bilancio del 2021 è stato di 57 donatrici e 430 litri di latte raccolto, che hanno posizionato quella del Versilia al secondo posto tra le banche del latte in Toscana. Il latte materno, soprattutto per i bambini nati prematuri, rappresenta una fonte non solo di nutrimento, ma paragonabile a una vera e propria terapia farmacologica. Per noi è una terapia per alcuni bambini, soprattutto i prematuri. Ricordo che qui all'ospedale della Versilia c'è un reparto particolare, la patologia neonatale, con bambini ricoverati da 29 settimane a un chilo di peso, che possono avere bisogno di questa magia del latte materno proprio come una medicina. E quindi, soprattutto per loro, noi abbiamo la necessità che le mamme conoscano questo servizio e che questo servizio proceda e vada avanti e diventi sempre più importante.